30 metri di altezza sulla punta della collina di Motta d'Affermo, costa nord, non lontano da Cefalura, chiude in sé tanti significati. Antonio Presti, mecenate, anima del Museo all'Aperto della Fiumara d'Arte, la vede come un tempio laico. Sì, restituire quel senso di bellezza che purtroppo noi come società abbiamo distrutto e abbiamo negato. E quindi il senso anche è di elevare un po' la società nel viaggio della conoscenza da questo livello di mediocrità che ci siamo dati. La piramide di Mauro Staccioli emette dei suoni. È stata costruita in acciaio corten per un effetto della dilatazione della lamiera. Al tramonto restituisce queste vibrazioni cosmiche di una sonorità bellissima, questo vibrare anche di un'anima che respira con il valore dell'universo. La struttura poi è di un trekking con questo paesaggio così bello, ma il suo interno è visitabile solo una volta all'anno. Perché? Soltanto a sostizio d'estate del 21 giugno, il giorno in cui la luce vince sulle tenebre.